Buonasera e benvenuti all'appuntamento promosso da Federconsumatori di Perugia e Federconsumatori nazionale. Due brevi parole per introdurre i lavori di questo appuntamento perché Federconsumatori ha scelto e ha chiesto a tre professori esperti poi vediamo nel settore secondo noi e alla e al giornalista, al divulgatore Giuseppe Castellini di partecipare a questo dibattito partendo da un libro che io vorrei ricordare e questo libro che è uscito qualche giorno, qualche settimana fa a cura del professor Crisanti e del professor Michele Mezza, Caccia al virus. Qualcuno ci ha scritto, qualcuno ci ha sollecitato, ci ha chiesto ma perché Federconsumatori ha deciso di fare un'iniziativa come questa e in questo periodo. Allora in questo periodo perché è il periodo strategico per vedere l'effetto dell'apertura e di come si è comportato i nostri concittadini e i cittadini italiani durante l'estate, quello che ha comportato o comporterà l'allentamento sulle, diciamo così, le restrizioni che avevamo prima dell'estate. Siamo di fronte a un rientro massiccio nei posti di lavoro, riapriranno fra qualche giorno le scuole, si rimuove, diciamo così, l'attività economica e turistica a livello europeo e c'è un gran dibattito sulle restrizioni, su quali prospettive avremo davanti a noi. Federconsumatori che è un'associazione che ha come scopo quello di informare gli utenti, i cittadini e di metterli in condizioni di fare scelte ragionate e consapevoli. Quindi non è nostra intenzione né di favorire una scelta né di imporne altre, ma semplicemente di tentare con dibattiti che hanno la capacità e la serietà scientifica di dare delle informazioni che secondo noi devono essere trasparenti, attendibili e anche verificabili. Il libro è uno degli strumenti, gli interlocutori di questa sera sono scientificamente, dal nostro punto di vista, ma penso riconosciuti internazionalmente, degli interlocutori che hanno tutte le caratteristiche per dare queste informazioni, a partire dal professor Luca Gammaitoni che è fisico all'Università di Perugia, ma è anche, e per questo è uno dei motivi che lo abbiamo invitato, esperto di curve di epidemia per quanto ci riguarda come Umbria. Lo abbiamo visto dall'inizio della situazione con lo studio, i grafici e la divulgazione di come andava in Umbria rapportata a livello nazionale nel periodo, in questi mesi e anni, le curve di epidemia. Poi abbiamo chiesto a un esperto, perché ha scritto il libro, ma anche perché è uno, forse, dei più critici e dei più vivaci interlocutori sulla questione dei vaccini, che è il professore Andrea Crisanti. Vorrei ricordare le sue prese di posizione e anche la sua battaglia, non certo allineata e disponibile con tutti, quando ha sollevato il problema degli asintomatici e di come gli asintomatici erano e sono un rischio per gli altri cittadini, e il professor Michele Mezza, che è a sua volta un divulgatore, un studioso, dei numeri, perché come vedremo nel dibattito e nella discussione che seguirà, lo studio dei numeri, la tracciabilità dei dati, il possesso delle informazioni che derivano dai numeri, fanno e faranno la differenza nei prossimi mesi e nel prossimo futuro. Perché? Perché abbiamo bisogno di creare modelli di sviluppo che assicurino un'equità sociale. Tra pochi giorni, e chiudo, riapre la scuola, i più deboli, i più poveri, i più disagiati, che sono i figli delle famiglie che hanno meno opportunità, sono stati quelli colpiti duramente, quindi abbiamo avuto due anni persi per intere generazioni, intere fasce di popolazione. Feder Consumatori, con i suoi sportelli, i disagi, la povertà, le difficoltà economiche, le difficoltà di relazione, di collegamento, la mancanza di strumenti essenziali per conoscere e per la didattica. Penso alla connessione, quindi noi siamo per il diritto alla connessione da inserire addirittura in Costituzione e all'interno dei statuti regionali. Lo vede e lo prova perché tutti i giorni ai nostri sportelli, i nostri migliaia di volontari operatori possono toccare purtroppo con mano queste difficoltà. Quindi con questo io ringrazio chi ha accettato l'invito, vi ricordo che la discussione, il dibattito sarà visibile sul sito di Feder Consumatori e anche su alcune reti tv a livello locale, soprattutto nel centro Italia e daremo informazione tramite il lavoro egregio che il nostro ufficio stampa fa giornalmente. Per questo vi ringrazio nuovamente, ringrazio i relatori e do la parola per il coordinamento della serata al direttore Giuseppe Castellini. Prego Giuseppe. Allora ringrazio anch'io dell'invito perché il tema è di grande interesse, gli interlocutori estremamente qualificati. Il libro, lo vorrei far vedere anch'io, del professor Crisanti e del professor Mezza, Caccia al virus, rosso e nero editore, probabilmente lo vedete rovesciato però perché è a video, è veramente da leggere perché anche individua delle strategie e individua anche degli errori che probabilmente sono stati fatti. E qui vorrei solo dire una cosa che è un po' datata ma non è che siano cambiate di tanto le cose. Un'intervista che io feci al professor Vittorio Valli che è un esperto delle economie comparate, eravamo a fine giugno 2020, mi colpì, ho rivisto i dati recentemente, non è che sono cambiati tanto, mi colpì le percentuali dei morti normalizzati a ogni 100.000 abitanti, per esempio l'Italia aveva allora 34.744 morti complessivamente, oggi ne abbiamo, il dato di oggi è 129.290 complessivi e avevamo 575 morti per milioni di abitanti. La Sud Corea ce ne aveva 6, la Giappone ce ne aveva 8, non dico il dato della Cina che aveva 3 ma sui dati della Cina possiamo nutrire dubbi ma cioè volevo dire dei paesi sicuramente democratici e sicuramente con un sistema informativo di controllo, quindi dati affidabili avevano tra 8 e 575, poi c'erano allora gli Stati Uniti 389 per milioni di abitanti, la Germania 108, Regno Unito allora ce ne aveva 642 decessi a ogni milione di abitanti, cioè delle sproporzioni per cui il professor Valli dice abbiamo guardato da molte parti ma non dove dovevamo guardare, cioè gli esempi che poi cita anche il professor Crisanti e il professor Mezza nel libro della Sud Corea, del Giappone ma anche della Nuova Zelanda, di Taiwan e di Singapore e questo deve servire da lezione sia perché la pandemia non è finita e qui lo avverte bene il professor Crisanti, le sorprese sono sempre dietro l'angolo e sia perché dobbiamo essere preparati per eventuali nuove pandemie in futuro. Io adesso vorrei subito invitare il dottor Gammaitoni, che è Luca Gammaitoni, che è docente di fisica sperimentale all'Università di Perugia e diciamo è proprio esperto di curve epidemiologiche. Allora ci può fare una sintesi, capisco che è una cosa complessa farla in poco tempo, però di come si è evoluta la curva epidemiologica in Italia, di quali sono le tendenze attuali e di quali sono i rischi che questa curva epidemiologica possa rinnalzarsi? Allora sì, volentieri, buonasera. Beh diciamo intanto bisogna dire questo, tutte le epidemie di cui abbiamo in qualche modo notizia più o meno quantitativa sappiamo che sono evolute grossomodo nella stessa maniera e le leggi matematiche che diciamo regolano questa evoluzione non sono nuove ma sono note da almeno 100 anni. Quindi diciamo stiamo parlando di una conoscenza che si è accumulata in un periodo molto ampio. E come evolvono le epidemie? Evolvono secondo un fenomeno che si chiama ondata. Cioè tutte le epidemie durano una certa estensione temporale, per esempio due anni, tre anni, e in questo periodo sono caratterizzate da ondate successive. Che cos'è un'ondata? Beh un'ondata è una situazione in cui all'inizio il numero dei contagiati è molto basso, poi cresce molto velocemente, quello che si chiama una crescita esponenziale, raggiunge un massimo e poi diminuisce fino quasi a zero. Quando sembra che diciamo l'ondata sia finita, dopo un po' però si può riaccendere. Come è accaduto a noi. Esatto, è accaduto quattro volte in Italia negli ultimi due anni sostanzialmente, l'ultimo anno e mezzo. Questo fenomeno è descritto appunto da equazioni che sono note da veramente circa cento anni, a cui anche un importante matematico italiano, Vito Volterra, ha dato un contributo importante. Ecco, diciamo, quindi sappiamo come vanno queste equazioni e per curiosità vi dico che sono le stesse leggi matematiche che regolano la propagazione degli incendi. Infatti il modo in cui un incendio si propaga in un bosco, per esempio, è molto simile al modo in cui un'epidemia si propaga tra la popolazione di un paese, di una nazione. Quindi questo fenomeno delle ondate. Ora attualmente siamo alla fine della quarta ondata, alla fine almeno diciamo in alcune regioni, per esempio in Umbria dove abbiamo già passato il massimo di questa curva e in Italia in questo momento siamo esattamente in prossimità del massimo, cioè ci possiamo attendere che nelle prossime settimane il numero dei contagiati comincerà a scendere, mentre è cresciuto negli ultimi due mesi. Quindi siamo al culmine della quarta ondata ma stiamo già guardando con un po' di fiducia al futuro perché ci aspettiamo che ci sia un calo. La domanda è ci sarà poi una quinta ondata e magari una sesta ondata o finirà qui? Ecco questo diciamo al momento non è facilissimo rispondere. Le ondate sono un fenomeno di tipo probabilistico, quindi potrebbe essere finita qui, nel senso che potremmo non avere una nuova ondata, ma esiste una probabilità non del tutto trascurabile invece è che per esempio in inverno, quindi quando sarà avviato l'inverno, ci sia una quinta ondata. Se anche questo si dovesse verificare però ci aspettiamo comunque un'ondata estremamente modesta come quantità. E perché? Perché come un incendio si esaurisce quando è finita la legna d'ardere, ecco anche almeno in Italia, nei paesi occidentali, in questo momento stiamo cercando di sottrarre velocemente legna d'ardere a questo incendio, cioè stiamo cercando di sottrarre persone da infettare in modo tale che persone non diventino di nuovo diciamo disponibili al contagio e da questo dipenderà molto quindi l'evoluzione dell'epidemia da qui ai prossimi cinque sei mesi. Non c'è dubbio però perché come è già successo in passato l'epidemia finirà, tutte le epidemie hanno un inizio e una fine. Io credo che tutti gli epidemiologi in questo momento concordano sul dire che siamo verso la fine dell'epidemia, perlomeno nei paesi occidentali, nei paesi avanzati. Un discorso interessante resta da fare ovviamente per i paesi del terzo mondo dove invece per esempio il tasso di vaccinazione è bassissima se non addirittura nulla. Per cui in quel caso c'è ancora molta legna disponibile all'incendio. Due parole ma non c'è proprio bisogno per presentare il professor Andrea Grisanti, virologo, è stato docente di parassitologia molecolare all'Imperia College di Londra, attualmente è professore ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'Università di Padova e direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare appunto dell'Università di Padova. Volevo anche dire che dirige da una decina d'anni, credo dal 2011 se non sbaglio, la rivista scientifica Pathogens and Global Health. Poi professore lei ha avuto anche un passaggio a Perugia quindi abbiamo il quadro completo. Professore mi collego a quello, io le chiedo una cosa se fosse possibile magari faccia risposte un pochino più brevi perché le vorrei fare molte domande perché il libro è veramente pieno di spunti e quindi toccando anche quella, poi veda lei ovviamente, lei è il maestro, allora lei afferma viviamo in una transizione che ci sta portando da una situazione epidemica a uno stato endemico del rischio di infezioni. Che significa? Significa che praticamente, guardi, un'epidemia è quando praticamente un microorganismo entra per la prima volta in una popolazione suscettibile e si diffonde. Dopodiché si stabilisce un equilibrio all'interno della popolazione tra persone suscettibili e persone invece profette. Via via che il virus infetta le persone o nel caso in cui le persone vengono vaccinate diventano resistenti, quindi si sottraggono persone suscettibili. Ma che cosa succede? Questo è un equilibrio che dipende chiaramente dal numero di persone che sono suscettibili. Che cosa succede? Che ogni anno nascono nuove persone e queste persone non hanno ancora incontrato il virus, quindi in mancanza di vaccino queste persone sono destinate a infettarsi. Questo significa che rimarrà sempre una quota di persone suscettibili e rimarranno suscettibili finché o non si vaccinano o non si infettano. E questo è inevitabile perché chiaramente ogni anno c'è una quota fissa di persone che muoiono e quindi si stabilisce di fatto questo equilibrio. A quel punto la malattia diventa endemica. Ma questo accade per tutte le malattie. Guardi, per esempio il morbillo è una malattia, era una malattia endemica con certa prevalenza fino a 15-20 anni fa, poi è stata introdotta la vaccinazione, precoce la vaccinazione, quindi nei bambini. Perché si fanno i bambini? Per sottrarre il prima possibile persone suscettibili al virus. E quindi se... e poi ci sono tutta una serie di relazioni matematiche che ci dicono a secondo dell'indice di trasmissione qual è la probabilità che una persona nata si infetti e a che età. Quindi praticamente per un virus tipo il morbillo che ha per esempio un R0 elevatissimo, intorno a 12, in genere bisogna fare un vaccino che abbia un indice di protezione intorno al 95 per cento e fortunatamente ce l'abbiamo e vaccinare le persone entro il primo anno. Se si fa così, di fatto blocca la trasmissione in maniera efficace. Non la sento però. Non la sento più. No, no, adesso mi sento, ho disattivato l'audio proprio per evitare rumori di fondo. Mettiamo i piedi nel pianto. Lei è stato, diciamo così, l'autore, il protagonista del miracolo di Vaux. Praticamente, ecco, volevo capire perché poi passeremo proprio, si parte da lì per capire forse dove abbiamo sbagliato. Anche alla luce di quello che hanno fatto altri paesi tipo la Corea del Sud, dicevamo prima, Taiwan, anche il Giappone, la Nuova Zelanda, eccetera. Perché a voi si è riusciti a proprio a isolarlo, a batterlo proprio il virus? Sembra un miracolo. E poi la domanda, e poi che è successo? Perché non è stato preso un modello che funzionava? Perché, diciamo, a voi, guardi, faccio un piccolo passaggio indietro nella storia. Cioè, la Regione Veneto, presa dal panico, inconsapevolmente ordina a tutti quanti gli abitanti di Vaux di effettuare il tampone per verificare chi era infettato. Questa è una decisione che è stata presa estemporanea e non è stata mai ripetuta. Però, quando è stato fatto, noi ci siamo immediatamente risultati e questa ha creato una situazione veramente unica, perché era l'inizio dell'epidemia, un'intera popolazione era stata isolata, quindi senza nessun effetto confondente, l'età, sulla professione, sul pendolarismo, cioè tutta la popolazione è bloccata dentro, e quindi di fatto una fotografia, tutto sommato, abbastanza reale. E quindi ci siamo chiesti immediatamente che cosa, qual è l'impatto della misura, cioè della misura del lockdown, l'impatto della misura di aver testato tutti. Perché, sa, un conto è fare il lockdown, un conto è testare tutti, sono due cose completamente diverse. Adesso magari articolo un po' meglio questa cosa, perché che è successo? Che è cruciale. Nel momento in cui sono stati testati tutti gli abitanti, persone, risultate positive, sono state messe in isolamento, gli altri non è che stavano a casa, perché il primo lockdown di Voddi, Codogno e gli altri non era restate a casa, era isolare il luogo. Tutti gli altri abitanti erano di fatto liberi di fare quello che volevano. Poi che è successo? Noi abbiamo praticamente fatto un secondo campionamento appunto per vedere qual era l'effetto e ci siamo resi conto che l'R0 era stata abbattuta praticamente del 98%, cioè praticamente a voi non si è più infettato nessuno, ma non si è più infettato nessuno perché è cambiato completamente il paradigma per bloccare la trasmissione, perché la trasmissione, noi abbiamo sentito tantissimo questo termine abusato tracciamento e poi di fatto guardi non vuol dire niente, tracciamento specialmente come lo facciamo in Italia, perché tracciamento teoricamente significa che partendo dalla persona malata si ricostruiscono storicamente tutti i contatti. Guardi, questo è un processo estremamente inefficiente, laborioso e non scalabile, perché funziona così. La persona sa male, arriva quello che gli fa le domande, molto spesso la persona non si ricorda, molto spesso è sopraffatto emotivamente dal fatto di essere infettato e quindi preoccupato, a volte addirittura sta in condizioni respiratorie irale che tutto pensa tranne che rispondere e poi a volte le persone sono reticenti e mi creda questo è un problema serissimo. Quindi che cosa succede? Che immediatamente si perde una fetta di informazione importante, dopodiché tutte queste informazioni passano a un'altra persona alla quale incomincia a fare le telefonate e qui si perde un altro pezzo di informazione, perché non tutti rispondono al telefono, alcuni sono soppersi, alcuni magari hanno numeri, telefonano con numeri sconosciuti e non rispondono, un altro pezzo si perde, dopodiché tutta la pratica passa a un'altra persona ancora che di fatto poi fa il follow up. Noi abbiamo misurato a Bo che l'efficacia di questo sistema è praticamente del 30%, perché quando è stato fatto il contact tracing a Bo, praticamente la Regione Veneto ha messo tutte le migliori risorse, perché volevano trovare il paziente zero, non c'è stato contact tracing fatto meglio in Italia, mi creda. Ebbene, su 80 persone che erano infette il contact tracing ne ha identificate 35. Questo significa che se si fossero isolate soltanto quelle 35 persone ce ne sarebbero divaste 50 infette libere di trasmettere. Quindi, allora, significa che è stata fatta qualcosa di diverso. Che cosa è stato fatto? Praticamente è stata testata completamente la rete di interazioni delle persone a livello di un'intera comunità. Ora, è chiaro che questo non si può, nel caso dell'Italia parlo, teoricamente è difficilmente scalabile per grandi città, però è possibile mutuare sulla base di questa esperienza un modello che ha un paradigma completamente diverso di tracciamento, perché invece di fare tutta questa trafila di contact tracing classico, noi abbiamo proposto, e poi quello guarda, quello che è stato adottato dalla Corea del Sud, da una persona infetta, si testano a priori tutti i possibili contatti, senza chiedere niente. Questo è l'unico modo per estinguere i focolaio. Guardi, c'è stato recentemente un focolaio all'aeroporto di Singapore, di quattro mesi fa, 85 persone si sono infettate, hanno fatto tamponire a 150.000 persone, e il focolaio è stato estinto. Chiaramente c'è un costo, ma c'è un beneficio incredibile, perché a questo punto se lei va a Singapore non usa mascherine, non c'è distanziamento, non c'è niente. C'è un costo immediato, ma se consideriamo quello che è costato i vari lockdown... Esatto, esatto. Ok, ecco, poi non si è capito esattamente qual è il significato del lockdown. Guardi, mi creda, il lockdown non serve ad abolire, ad eliminare il virus. Il lockdown serve a guadagnare tempo, perché il lockdown di fatto ha un impatto molto importante sull'indice di trasmissione, lo riduce moltissimo, probabilmente lo riduce probabilmente del 90-95%, ma non lo estingue. Quindi significa che alla fine del lockdown ci sono ancora persone infette in grado di far ripartire la trasmissione. Però sono poche. Se nel frattempo questo tempo guadagnato è stato utilizzato per creare una capacità per bloccare la trasmissione, è chiaro che si stabilisce un equilibrio da più basso livello possibile. Guardi, le trasmissioni perse, la prima a maggio-giugno, con anche quelle sciagurate testimonianze di colleghi che il virus era morto, è l'illusione dei politici che il problema fosse alle spalle. E guardi, adesso è successo la stessa cosa, perché praticamente, prima si è detto, vabbè, il virus non c'è più e siamo usciti dalla epidemia, adesso si dice, ma i vaccini risolvono tutto. Guardi, i vaccini non risolvono tutto. Specialmente questi vaccini, di cui non si sa qual è la durata, non si sa qual è la capacità di interdizione, di controllo delle varianti. Quindi rischiamo di trovarci fra un 4-5 mesi con un problema ancora tutto da risolvere. Senta, mantenendoci su questa linea, lei ci ha detto che il contact tracing è efficace, ma in maniera limitata, no, del 30%. Lei dice, ci vuole il network testing. Io volevo capire, è realizzabile in un paese di 60 milioni di abitanti? Adesso io ho letto il libro e quindi so che lei cerca di realizzare. Però sinteticamente, perché è come funziona? Ma guardi, il network testing funziona in questo modo. Se c'è una persona che risulta positiva, senza fare questo tracciamento classico, praticamente si testano tutte le persone della possibile rete di interazione. Cioè noi dobbiamo immaginarsi, guardi, proprio così, noi viviamo in uno spazio virtuale di interazione che si è fatto. Guardi, ci dobbiamo immaginare come un edificio, un piano alla scuola, un piano agli amici, un piano alla famiglia, i vicini di casa, le vacanze e così via, che hanno sia interazioni orizzontali che verticali. Là dentro c'è sicuramente la persona che ha infettato il nostro positivo e là dentro, molto probabilmente, con elevata probabilità, ci sta anche i contatti secondari, cioè le persone che eventualmente questa persona positiva ha infettato. Se si testano tutti, si interrompe la catena di trasmissione. questa è l'idea. Ora, guardi, è per questo che vi ho detto il lockdown serve a guadagnare tempo, perché se il lockdown passi da 50.000 casi al giorno a 20-30, quanti ce ne avevamo a giugno dell'altro anno, le posso assicurare che con 20-30 casi, fatto bene, l'Italia, con una capacità di 300-400.000 tamponi, ce l'avrebbe fatta. Invece se ne facevano, mi sembra, in quel momento 70.000, se non sbaglio, 70-75.000, sarebbero stati necessari 400 con questo metodo. Sì, guardi, per esempio, faccio un esempio, l'Inghilterra, se lei va in Inghilterra, sembra che praticamente non ha più nessuna misura di sicurezza, va bene? Invece, ci sono misure di sicurezza in Inghilterra, perché l'Inghilterra ha un sistema di tracciamento geolocalizzazione volontario e è in grado di fare circa un milione di tamponi al giorno. Quindi, che cosa succede? Che l'Inghilterra, con questo sistema, andato pure sui giornali, ci sono state settimane in cui hanno messo in quarantena mezzo milione di persone al giorno. Le posso assicurare che questo c'è un impatto importante e a questo punto si stabilisce un equilibrio tra la capacità del virus di replicarsi e la nostra azione per bloccarlo. Ora, in Inghilterra, questo tetto è intorno ai 30.000 casi al giorno. 30.000 casi al giorno con un'ospedalizzazione di circa 4.000 persone e 60-70 morti al giorno che, mi creda, è ancora tanto comunque. Si potrebbe fare meglio. Senta, proprio su questo, quello che io non so che ho capito, prima ho dato dei dati che sono molto vecchi perché fece un'intervista al professor Vittorio Valli che è un esperto, lo dico anche per chi si fosse collegato adesso, è un esperto di economia comparate e presentò dei dati che risalgono a, mi sembra, a 27, ecco, adesso lo trovo, al 29 giugno 2020, quindi in Italia avevamo in quel momento complessivamente 34.744 decessi, oggi siamo quasi al 130.000, però impressionava che già in quel momento noi avevamo 575 decessi per milioni di abitanti, il Giappone ce ne aveva 8, la Sud Corea 6 per milioni di abitanti, adesso non ho il dato della Nuova Zelanda, ma erano tutti molto bassi. Allora, il professor Valli disse si è guardato dappertutto a meno sui modelli in cui si doveva guardare, ma non solo l'Italia, tutto l'Occidente ha fatto così, perché? Sì, beh, se è così, guardi, secondo me è un problema culturale, principalmente un problema culturale e anche un problema di carattere sociale, dato da quello culturale è che l'Occidente è stato per molti anni in una situazione privilegiata, cioè ha sconfitto e eliminato tutta una serie di malattie che per anni avevano rappresentato un problema che hanno contribuito moltissimo ad accorciare la vita media delle persone. Grazie ai lacini, grazie a sistemi di sanità pubblica, chiaramente molte di queste malattie sono sparite, sto parlando della polio, del vagliolo, della malaria, del tifo, del colera e quindi via via si è smantellata anche tutta la struttura di sanità pubblica che aveva permesso di eliminare queste malattie e si è anche disinvestito in termini di ricerca, in termini di competenze, quindi di fatto le faccio l'esempio dell'Italia ma in Italia le persone che hanno tirato fuori l'Italia dalla malaria, dal colera e dal tifo erano tutte morte e non sono state rimpiazzate come professionalità e allo stesso tempo sono smantellate tutte le strutture di sorveglianza epidemiologica invece tanto è passato mentre come dice lei sono endemiche viceversa i paesi che hanno fatto meglio che sono i paesi del sud-est asiatico sono paesi che invece queste competenze le hanno nutrite e se possibile estese perché sono paesi che hanno continuato ad avere problemi di malattie epidemiche per la maggior parte trasmesse da vettori tipo dengue febbre gialla malaria zika e encefaliti virali quindi sono hanno avuto la capacità e le competenze per reagire immediatamente e allo stesso tempo dal punto di vista sociale la popolazione era estremamente consapevole dell'importanza del controllo delle malattie trasmissibili quindi c'è stata una sintesi tra competenza e accettazione sociale nel Medio Oriente che tra le altre cose c'è anche un grossissimo problema di epidemie di influenza l'accettazione della mascherina non è mai stato un problema faccio un esempio proprio banale determinati comportamenti sociali di distanziamento lo stesso sono stati accettati dalla popolazione senza nessuna senza nessun problema capito quindi leggevo proprio un libro qui andremo fuori tema però di rampini del corrispondente di Repubblica che è il presidente dell'Oriente Occidente e beh lì c'è il confucianesimo che ha un senso della comunità diverso dall'individualismo dell'Oriente veramente altre stratificazioni sociali però io diciamo l'ho affrontato solo diciamo dal punto di vista così epidemiologico sociale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti